Ciao a tutti, facciamo vedere la vostra annica, sì come ogni lunedì, blumadì Allora, stavamo ritornate le patatine e abbiamo trovato questi della Salati Preziosi Non ricordo, forse la Conad, penso di sì, di Bing, vediamo, non dice Puoi trovare una fantastica sorpresa, boh, non dice niente, ne apriamo dopo, vediamo E decorazione Halloween, perché questa è proprio la settimana di Halloween Buon Halloween a tutti E appunto questa è la settimana che va dal 28 al 3 e andiamo in novembre Perciò, uoscini, questi qua, con i teschietti, con i fantasmini, i pipistrellini E abbiamo fatto così, eccolo qua, ho messo un po' qua, un po' qua, ho fatto tutto un po' un misto Sticker ce li ho qui, dopo, li mettiamo dopo La penna, vediamo la penna, cosa possiamo fare Direi di... sì, dai Arancio-zucca Sì, facciamo arancio-zucca Allora, 28 lunedì Lavoro 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 Poi 30 Mercoledì Lavoro Giovedì Poi Lavoro 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 In teoria non lavoro Il 2 sabato In teoria, l'ho chiesto di ferie, non lavoro E il 3 domenica, mi ho sperato, meritato, relax Ero a casa comunque Sempre in teoria Allora Andiamo a scriverlo Andiamo a scriverlo Ok Adesso andiamo a prendere Vediamo Arancio Dove deve essere questo Arancio Sì Coloriamo bene la nostra scritta Dallo sperato, meritato, relax Andiamo Andiamo già in novembre Mamma mi sei vicino a Natale Mi sei vicino a Natale Speriamo che arrivi alla svetta l'estate Allora Non che non mi piaccia il Natale Però E' felico l'estate C'è più che altro il Natale In un periodo Freddo Mi piace Triste, cupo, grigio Sempre le giornate buie Sempre tutto qua Sticker questi di Tiger Allora Io direi Di mettere Un bel Happy Halloween Bello gigantoso qua Lo mettiamo Vediamo un attimino Dove può stare bene Qua così Qua Ci mettiamo altri sticker Così Voilà Poi La stregotta qua Bella La streghigna Perché è carina La mettiamo Sulla domenica Vediamo Non staccargli Strappagli niente Poverina Così Facciamola così Che sale Su un picchiata Ok Poi abbiamo La zucca La zucotta Poi Il gatto Gattoni Questo qua Bello Puccioso Voilà Che bello Il pipistrellino Il pipistrellino Lo mettiamo qua Così Poi C'è anche Il guffetto Lo mettiamo qua Poi Abbiamo il teschietto Che carino Col fiocchettino Rosa Troppo Puccio Poi abbiamo Un ragnetto Con la sua Tila Un altro pipistola Longe Lo mettiamo qua Che si vuole La zonza Qua così Poi Andiamo di dolcetti Anche un po' Giustamente Come deve essere Caramellina Qua mettiamo Il sacchettino E poi Ci va anche La zucchetta Gelato Non è che abbia Molto senso Però Qua mettiamo Un fantasmino Che svolazza Vicino Alla nostra Stredina Così E poi Ancora una caramellina In giro E io penso Che Così Posso Bastare Dai Sennò Riempur troppo Non ci riesco più niente Allora State che andiamo A inserirla Prima di tutto Abbiamo anche Il nostro divisore Di novembre Che è arrivato Il momento Anche per il novembre Si apro Così Perché Se no Mi partono fuori Tutti i fogli Ed è un casino Perché è troppo piena Gli anelli sono grossi E sì No Non ho ancora deciso L'agenda di prendere Non ho ancora trovato niente Perché qualcuno di voi Mi ha domandato Hai già deciso No L'agenda dell'anno nuovo No Niente ancora No Allora Andiamo A scrivere Video Agenda Più saluti Che adesso andiamo a fare Sempre di lunedì Attivate la campanellina Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Per non perdere Gli altri video In settimana Agenda Più saluti Ok E adesso Appunto li facciamo Vediamo Emily Ciao Dani Ciao Gavino Ciao Stefano Noero Ciao Anitta E Miriam Ciao Ciao Elisa Santoro Ciao Elisa Mesaroli Ciao Giada Boschetti Ciao Giulia Meteori Ciao Sissi Clietta Ciao Francesca Duca Ciao Francesca Galeone Ciao Antonia D'Achille Ciao Sarai Ciao Marina Schenone Ciao Angela Mauri Ciao Claudia Ciao Perché Metchiamo via E questa è la nostra Settimanona Tutta Halloween Che bello Happy Halloween A tutti Ok Andiamo a aprire le patatine Allora Vediamo Bing Cosa ci regala Patatine C'è dentro Più patatine C'è qualcosa Di grosso Apriamo prima Questa E vediamo Come sono Anche le patatine Allora Vabbè Uff Ci sono Troppo Sprecate Guardate Quante patatine C'è dentro Niente Adesso Me ne mangio Subito Una Queste Rigate Troppo Buome E qua Spero 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 che Spero che C'erano Sticker Mi sembra Che forse Li avevo Anche Già Trovati Non lo so Sì Sono sticker Meno male Che su sticker Non tatuaggi E vediamo Quanti ce ne sono Dentro Che carini Allora Un Due Tre Tre Quattro Questi Sono tutti Cartoncini Che non Servono Niente Adesso Andiamo a Aprire L'altro Speriamo di Trovarli Diversi Ma Non credo Proprio Ormai Non ho più Fede Di ritrovare Cose Diverse Trovo tutto Doppio Però In compenso Qua ci sono Più patatine Ma Veramente Guardate La differenza Scusate Si vede Tantissimo Proprio Non lo so Eccolo Qua Doppioni Non ce ne sono Questo Diverso Cioè È Bing Ma È diverso Meno male Adesso Vediamo Quelli sotto Perché Sapete che È la Nica Dai Meno male Meno male E ti pareva Tanti Questo è Doppio E questa No E dai Dai C'è andata Bene Un doppio Meno male Ecco qua Sticker Carini Dai E questi Sì Non sono ritagliati No pretendo un po' troppo Però Così Tacchete Va bene Carini Dai Va bene Niente Buon Halloween A tutti Tanti dolcetti Tanti scherzetti Chi lo sa Fatemi sapere nei commenti Cosa fate Di cosa vi mascherate Se andate Insomma Ecco che Mi diverto a saperlo E sono qua pronta a rispondervi Buona settimana a tutti E con il Play with me Lunedì prossimo E altri video Settimana Buona settimana a tutti Ciao ciao Buona settimana a tutti Ciao Ciao